abbiamo un problema c'è mo siamo praticamente oggi è passato natale siamo santo stefano 26 dicembre ma santo stefano prima mangiavo sempre a casa perché in pratica c'è c'era veniva mio fratello perché c'era mio padre prima e aspettate un attimo e allora praticamente c'era c'era mia sorella mia cognata e mio padre mia madre i miei nipoti claudia francesco gabriella alessandra poi c'era praticamente niente mangiavamo e niente finivamo poi praticamente non sono andato sopra e io mi stavo sempre zitto non parlavo mai ci sono c'è abbiamo festeggiato siccome io a modo siccome non sono più a casa mia perché abito qua allora abbiamo mangiato ieri sera e mi passo il tempo perché è niente avevo fatto c'è queste fotografie che ho messo su facebook e ho fatto scritto pure delle cose c'è qualche video abbiato un film l'anno della verità 2023 però è troppo lungo e cinque ore e 10 non è facile da vedere siccome praticamente c'è una cosa la so che avevo un motivo uno scopo no c'è praticamente volevo essere utile quindi non è che c'è non è facile c'è bisogno di di un'arma c'è praticamente ci dovrebbe un sistema per difendersi praticamente è come se in quel caso uno può stare tranquillo ma il problema di gesù cristo quale il problema di gesù cristo è che praticamente come si dice lui in pratica salvati la tua vita c'è praticamente come se in pratica uno fa un discorso del genere perché non si può difendere c'è allora lui era lì tra la vita e la morte e non poteva decidere allora ha fatto ha fatto ha praticamente lì ha sviluppato un programma in cui praticamente è come se non poteva salvarsi e ha ragionato in quel modo quello è un è un vangelo in cui praticamente lui era stato dichiarato morto perché non si poteva difendere ma per esempio quei ragionamenti la se invece uno si può difendere è come se in pratica può vivere perché in pratica com'è cioè se io il problema ce l'ho che non posso vivere perché non mi posso difendere da qualcuno è come se non come se non posso fare alcune cose perché qualcuno mi minaccia ma che significa che ci sono questi problemi nella vita c'è se noi troviamo per esempio un punto di un punto di incontro fra per esempio non so alcune per esempio non so si può fare così per esempio se si riesce a sviluppare un programma in modo che la gente sia d'accordo perché non tutti sono d'accordo se per esempio uno per esempio parla con la gente e quello la se ne fotte perché non hai non hai l'argomento allora praticamente è inutile che che parli con me perché c'è come se lui praticamente dice inutile che parli perché non sono d'accordo questo è tutto vado grazie